Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, la situazione è molto difficile, però siamo molto uniti. Il Verona prende tanti gol, quasi due gol, anzi due gol a partita di media. Cos'è che non funziona nella difesa o nel modo di difendere? È sicuramente legato alla qualità delle squadre, perché abbiamo visto delle squadre molto, molto forti. In questi casi il minimo dettaglio, il minimo errore viene ripagato purtroppo. Stiamo lavorando in questa direzione, cioè in quella di migliorare, ma anche di correggere questi errori. E, ovviamente, la nostra lotta è quella di aggiungere sempre più punti e di cambiare il corso. Che situazione e che squadra hai trovato venendo qui a Verona? Sapevi benissimo che era difficile, che impressione ti hanno fatto i tuoi compagni, Pecchia, la squadra, che sensazioni hai? Qual è il tuo primo impatto con la squadra? Ovviamente, la situazione è molto difficile, ma qual è il tuo primo impatto con la squadra? Quando ho incontato i ragazzi, i sport direttori, i tutti i club, tutto è positivo, davvero. Tutti i ragazzi sono così positivi in questo club e questo è il più importante. Tutti i loro credi che possiamo rimanere, ovviamente. La parte più importante è sicuramente quella dell'atmosfera positiva che si respira nel club, assolutamente anche da parte di Mister. E tutti ci crediamo molto, per cui restiamo uniti. Cosa ti ha detto Taxidis, prima di venire qui a Verona? Siete stati i compagni per qualche mese. Cosa ti ha detto Taxidis? Cosa ti ha detto? Siete giocatori di team per un tempo. Sì, sì. Siamo giocati in Olimpiakos insieme. È un buon giocatore, un buon personaggio. Sì, abbiamo giocato insieme per l'Olimpiakos. Siamo anche molto amici. Sì, ci siamo ritrovati a casa. Quando ho spiegato a lui che ho offerto per Verona per andare in Olimpiakos, mi ha detto che Vuko non pensi solo di andare in Olimpiakos. prima di tutto sia una buona Liga e anche un buon club. Quando l'ho informato di questa opportunità di poter venire a Verona per giocare in Liga, lui mi ha detto di non pensare minimamente neanche un secondo e di abbracciare questa opportunità non solo per la squadra ma anche per il club. Perfino lui era molto positivo perché mi diceva sì resterete in Serie A sicuramente e quindi aveva anche lui questa convinzione. Quest'estate per te c'è un impegno importante. Ci sono i mondiali che la Serbia attende da otto anni, visto che era mancata la qualificazione. Ci pensi, hai già parlato con il tuo CT, è un obiettivo quanto importante per te. Nel summer hai un challenge molto importante. Hai la Champions League nel summer. Come preparatevi per l'Olimpiakos? Hai parlato con l'Olimpiakos? Come preparatevi per l'Olimpiakos? Sì, prima che preparatevi per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos. Mi aspettavo anche delle cose buone cose con Serbia. Se tutto andrà bene qua sicuramente andrà molto bene anche con Serbia. Mi aspetto anche a delle cose molto positive anche con Serbia. Grazie. 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 E' per questo motivo il club mi è portato per portare la qualità in campo. In secondo un gioco vorrei venire l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos per l'Olimpiakos. E ovviamente tenterò di fare molto più che posso qui per aiutare Verona. Farò il mio possibile per aumentare questa qualità di cui parlavo, per far bene. Come ti sono sembrati gli attaccanti del campionato italiano, tutti i giocatori che hai dovuto marcare? Insomma, te ne sono capitati parecchi di quelli forti perché avete incontrato diverse squadre di valore. Come ti senti in questa situazione, come ti senti in questa situazione? Qual è la tua impressione durante la attacca? Perché hai visto, come hai detto, molto importanti. Sì, fino adesso ho avuto l'opportunità di giocare con buoni giocatori. E, ovviamente, devi essere sempre bello. Per me è molto importante la cautela, la prudenza, devo essere molto concentrato durante la partita perché bisogna giocare bene per 90 minuti. Ecco. Ci spieghi un po' la tua carriera, che hai avuto dei grandi picchi e poi dei passaggi a vuoto, quindi dei grandi momenti, magari qualche anno fa per il Verona. Il Verona non poteva pensare di avere uno come Vukovic che stava salendo i gradini del calcio europeo. Che momento hai della tua carriera e com'è andata fino a questo momento? Noi vogliamo sapere più di tua carriera come oggi, ma anche del passaggio. Perché nel passaggio hai alcuni spiegelati durante la tua carriera. Hai momenti in cui hai avuto un punto molto alto. dove hai avuto un po' la tua carriera. E dove sei oggi? E potresti darei un po' più informazioni su questo passaggio? Sì, ok, non ho chiesto di spettare, ma a volte, come dicevo, si toccate le stagioni e se non va bene, a volte bisogna fare un passo, per farlo dopo 2-3. In mia carriera, penso che ora faccio il migliore di Konia sport in Turki. perché da un piccolo club abbiamo fatto una terza posizione in la Liga abbiamo qualificato la prima volta nella storia del club per la Liga Europa e questo è il mio migliore momento in carriera ok ma considero che il momento più importante della mia carriera per adesso è stato quello della Turchia giocare per la Turchia ci siamo qualificati per la prima volta per la European League quindi credo che è stato un momento molto importante per la mia carriera sì, di certo ci sono momenti meno toccanti come quelli però credo di essere arrivato a veramente un buon punto della mia carriera ad oggi L'ultima per me ti chiedo se anche se non capisci tanto l'italiano cosa ti sta arrivando della situazione comunque complicata che c'è attorno al Verona con le proteste dei tifosi con le parole del Presidente cosa ti è arrivato di questa situazione? Again, this is a very difficult situation what is the impact how do you feel considering also the comments of the President of the club and how is your experience could you give us an insight they want to go to this club and they will not give up so easy sì, in realtà mi hanno tradotto un po' tutto quello che è stato detto quindi so bene di che cosa si tratta alla fine sono molto esigenti e hanno ragione perché abbiamo tutti insieme un obiettivo in comune come dicevo prima è di vincere quindi è giusto essere esigenti è giusto cercare insieme andare verso questo obiettivo sì, è giusto che il club lotta da una parte e noi lottiamo dall'altra parte però insieme raggiungiamo l'obiettivo quindi l'unità è importante ciao Alberto Fabri e benvenuto a Verona e se il Verona ha problemi in difesa ha qualche problema anche in attacco visto che si subiscono troppi gol e se ne fanno troppi pochi non sono un esperto nell'attacco no, è ok ma non lo so stiamo cercando stiamo veramente stiamo veramente tirando fuori tutto l'avremo veramente molto ti ho fatto questa domanda che era un po' provocatoria perché tu con un gol comunque risulti essere uno dei giocatori che è andato in gol visto che il nostro capo canone erano fatti appena 4 e tu da difensore appunto l'esordio sei riuscito subito a timbrare il cartellino la mia domanda era un po' provocatoria perché ero l'unica che come difesa ha scoperto quindi era un po' provocatoria e per questo stavo chiesto nessun problema nessun problema è che si stiamo lavorando si stiamo lavorando e state lavorando anche sull'assetto difensivo a Roma siete partiti con la difesa 3 subito dopo pochi minuti siete tornati alla difesa 4 secondo te il Verona ha le caratteristiche per giocare anche con la difesa 3 dipende chi abbiamo di fronte dipende chi abbiamo di fronte ed è una scelta poi dell'allenatore a decidere mancano 13 giornate domenica arriva il Torino dopo si va a Benevento ultima contro penultima e dopo c'è il derby sempre meno giornate sempre meno punti a disposizione avete fatto una tabella nello spogliatoio a quota 16 siete adesso quanti ne servono per arrivare all'ambita salvezza secondo te di voi lavorare a una form a stepwise tabella in cui potete program magari ciò che la salvezza per Hellas perché abbiamo solo 13 giorni left e poi 13 giorni 13 giorni left e quindi abbiamo 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 visto Bonivento e poi il derby è arrivato come ti stanno planando questo avanti avete una tabella ti stanno planando sì ovviamente questo tutto funziona per il coach e ovviamente ciò che prepara per le gioco e sì sappiamo Torino è anche difficile per us ma anche persone per Fiorentina dicano che ciò 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 che Per cui sicuramente è il lavoro dell'allenatore, di mister, poi di decidere certe situazioni, sicuramente la squadra di Torino è una molto forte, quindi sarà un bel vedere, ma stiamo organizzandoci già da ora evidentemente. Quanti punti, secondo lui, servono per conquistare la salvezza? Quante volte dobbiamo scorrere per salvare la squadra? Per il gioco? In punti, in punti, in punti, come scorrere. In punti, per rimanere nel gioco, credo 12. 12 punti, sì esattamente. Credo che 12... No, non. Non, non mi dico in 13 gioco. Quanti punti? Per salvare. In modo da dire il gioco... 33, credo. 33. mi stanno dicendo della regia è possibile diciamo che andiamo oltre la matematica per chiudere non servirà certamente applicare un bellissimo gioco bisogna essere più brutti e concreti in questo momento visto che servono punti non certo caiccio champagne non che quest'anno peraltro si sia tanto visto un bel gioco però ora come ora bisogna essere ancora più concreti well up to now we didn't really see a very attackful a very strong a very that type of game so now even more than before we will have to underline you know we would have to fight in that way which is a very strong way very mean if I might say a mean way into scoring into getting there so we don't we can't really talk about champagne and playing you know schemes but we have to be there and very strong and very meanful yeah of course I agree with that we need to fight more and that's why we are also working more hard than before and I have good feeling we can we can make good and we can stay in Serie A in effetti stiamo stiamo tirando fuori i denti ancora di più di prima stiamo lavorando ancora di più di prima sicuramente i risultati arriveranno thank you grazie 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 Grazie.